Ripartiamo sempre alla grande, siete nella sala corsi dove ci batterà un pochino più forte il cuore, ma senza tralasciare naturalmente che è quello che è tutto il lavoro di tonificazione e resistenza muscolare. Diciamo che è più cardiaco come allenamento, active class, quindi ragazzi ci facciamo un bel riscaldamento abbastanza prolungato di circa 8 minuti e poi partiamo direttamente con il workout, saranno 4 esercizi che dovremo fare, ma attenzione, vi ricordate che lo facevamo? Crack! È quello dell'orologio, però leggermente diminuito, quindi il primo esercizio sarà di 50 secondi, il secondo di 40, il terzo di 30 e il quarto esercizio di 20 secondi, ma attenzione, 4 giri, poi faremo crock! Quindi quello che era il primo esercizio, ragazzi, durerà invece un pochino di meno perché l'ultimo durerà invece un pochino di più. Ragazzi, è più facile a farlo che a spiegarlo, quindi io direi di partire. Il mio bacio che non manca mai, ragazzi, pronti e in forze? Alzo la musica e partiamo. Ricordati, tappetino che ci servirà e acqua, acqua che è veramente molto, molto, molto importante. Allora, stiamo qua, gambe belle divaricate, punte leggermente aperte, 3D1, dammi il braccio destro, 1 e torno, cambio, 2 e torno, cambio, 3. Dai che ci dobbiamo prima allungare un pochettino, facciamo capire al nostro corpo, un pelo più veloce, 1 e torno, 2, 3, 4, 5. 6, manca le ultime due, fai. Occhio a me, fammi dei piccoli squat, mani, piccolo, piccolo, piccolo. Occhio a me, lo squat è sempre gluteo indietro, giù. Però adesso piccolo, ragazzi, ci dobbiamo solo bello che riscaldare, 4, 3, 2, guarda le mani, su, 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 ancora, giù, 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 rimani giù, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, dammi ancora le mani e 1, giù, 2, giù, 3, giù, ginocchio, destro, sinistro, vai. Dai che iniziamo. Belli carichi come al solito. Forza che ormai abbiamo già ripreso, eh. Non ci sono chiuse, scudo, chiudo. Non ci sono scuse. Non esistono. Ricordati una cosa, che le scuse non esistono. Sono qualcosa che noi ci creiamo dentro la nostra testolina, ma in realtà non ci sono. Piega dietro. Piega. fatta. Ancora. Facciamo capire bene il nostro corpo. Ehi, oggi ti lavoro bene. Tornano le ginocchia. Su le braccia. Su. Su. Ragazzi, piego dietro. Ragazzi, ragazzi, insomma, un po' misto. Bisogna trovare un termine che è misto. Solo ginocchio, destro. Andiamo. Vai, ancora, 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 ancora. Ancora. 8, 7, 6. Guarda me. Chiudo, chiudo, chiudo. Step touch. Up. E su. E su. Su, ancora. Dammi ancora. 4, sai già. 3, sai già. 4, 3. Ginocchio sinistro. Andiamo. 4, 3. Fammi la chiusura. Ora. Step touch. Vai. Su. Su. Ragazzi, piega dietro. Piega. 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 4, 3. Voglio la punta del piede. Rotazione del busto. Portami dentro l'ombelico. Su. Ancora. 8, 6, 4, 3. Le allunghiamo le braccia. Ora. Vai. Su. Vai. Vai. ancora. Fammi un bel sorriso. Ragazzi, braccio in alto dal basso verso l'alto. Su. 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 Perché adesso te le chiedo entrambe le braccia. Vai. 8, 6, 4. Cap in avanti. Occhio a me. Porta avanti il piede. Sì? C'è? Facilissimo. Dammi 8 ginocchia destra. Ancora. Ragazzi, si marcia. Oh, sinistra destra. Usami i gomiti. Guardami i gomiti. Vai. 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 Punta del piede. Sinistra destra. Ora. One as a piece slide. Voglio il ginocchio sinistro. Si marcia. E destra sinistra. Ancora. Dai che è solo il riscaldamento. 4, 3. Punta del piede destra. Andiamo. 4. Sul ginocchio. 4. Marcia sinistra. Vai giù. Vai su. Vai su. Vai su. Si va. Punta. Genocchio. Marcia. Vai giù. Vai su. Vai giù. Vai su. Punta. Genocchio. E se hai spazio, occhio. Occhio a me. Giù. Vieni avanti. Rimani. Giù. Vai indietro. Punta. Genocchio. Marcia. Vieni avanti. Giù. Rimani. Giù. Vai indietro. E stop. Chiudo. 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 respira. 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 Occhio a me. Portami indietro le gambe. Vai. Strizza bene il gluteo. Strizza, 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 strizza. Ancora. Dai che mancano due minuti e partiamo. 4, 3, 2. Mi metto in diagonale così mi vedrai. Guarda le braccia. Appoggio. Vai dietro. Ritorni. E sali con l'altra gamba. Appoggio. Vai dietro. Ritorni. E sali con tutte le due le gambe. Appoggio. E spingo. Ritorno. E qua. Più veloce. Appoggio. Spingo. Ancora. Su. Ancora 4. 3. 2. L'ultimo. Rimani. Tengo. 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 Tieni. 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 Forti gli addominali. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Torno. Qua. E su. Wow. Ragazzi. Ci siamo riscaldati bene io direi. Quindi adesso ti faccio vedere i quattro esercizi che dobbiamo fare e poi partiamo. Intanto vai a bere un sorso d'acqua. Sorsino d'acqua. Il primo è un po' potente però secondo me ce la facciamo. prendi subito il tappetino che ci può servire. Allora ci può servire se terremo le ginocchia in appoggio. Se non le terremo in appoggio diciamo che non ci può servire. Io ve lo faccio mettere comunque perché magari poi a un certo punto non la fate più e quindi dovete appoggiare le ginocchia. Abbasso un pelo la musica. Ok. Allora. Dolci mie metà. Ecco il termine generico. Non ragazzi o ragazzi ma dolci mie metà. Comprende tutto eh. Ecco ma. Allora detto questo il primo esercizio che faremo è un push up con la torsione. Quindi andiamo in posizione di push up. Le dita leggermente verso si guardano e distendo le gambe. Ok. Se vedi se sai già che non ce la farai appoggi le ginocchia. Ma attenzione non voglio vedere il sedere su. Bus è totalmente allineato. Ginocchia spalle o talloni spalle. Ok. Quindi andremo a fare un push up. Si tocca il pavimento col petto. Si torna su. Occhio a me. Torsione spingendo il gomito verso l'alto. Giù. Push up. Cambio. Torsione. Su. Ok. Facciamolo assieme. 3. 2. 1. Andiamo vai. 1. Torsione. 2. Torsione. 3. Torsione. Dammi l'ultimo. Giù. Torsione. Ok. Attenzione che se me lo fai con le ginocchia in appoggio la torsione diventa difficile. Puoi fare questo. Quindi ginocchia in appoggio. Giù. Farai push up. Appoggi. Stendi. Torsione. Ok. Appoggi le ginocchia. Push up. Ci siamo fino qua? Beh io dire di sì eh. togliamo il tappetino. Se hai spazio lo tieni aperto e lo metti a lato. Se non hai spazio lo chiudi. Allora. Secondo esercizio. Il cuore ce lo porta su di brutto. Stai sicura. Allora. È uno squat jump. Quindi farò un salto in avanti andando in squat. Quindi squat. Ricordati. Se noi saltiamo in avanti la caduta ci porterà in avanti. Devi buttarmi indietro il sedere. Guarda. Dietro il sedere. Ok. Mi atterri con tutta la pianta del piede. Dietro il sedere. Il ritorno ragazzi. 1, 2, 3, 4. Ok. Quindi è giù. 1, 2, 3, 4. Giù. 1, 2, 3, 4. Giù. 1, 2, 3, 4. Ok. Vedete il mio cuore che è già salito. Solo facendone tre. Quindi andate proprio sereni. Allora. Riprendiamo il nostro tappetino. Abbiamo il V-crunch. Quindi per i nostri addominali andiamo a lavorare tutto l'apparato addominale. Quindi retti addominali. Parte anche più bassa per i retti addominali. Quelli che vengono chiamati gli addominali bassi. Ma è un corpo unico. Sappiatelo. I trasversi perché usiamo le gambe. Gli obliqui perché abbiamo la torsione. Quindi se volete la versione più semplice. Le ginocchia flesse. Le mani dietro. Vado su. Tocco la punta e torno giù. Tocco la punta e torno giù. Vi do una spinta con le braccia. E su. Se volete lavorare bene ragazzi. Gambe distese. E andiamo. Braccia distese. Andiamo. 1, 2, 3, 4, 5. Dammi l'ultimo. E 6. Io dico dammi l'ultimo perché do per scontato che tu mi stai seguendo anche nei movimenti eh. Anche se stiamo facendo solo la spiegazione degli esercizi. Ok? Attenzione. Ultimo esercizio. Anche questo è bello cardio. Se avete visto vi ho calibrato resistenza cardio resistenza cardio. Abbiamo un burpees. Come detto in americano. Un burpees. In realtà il burpees. Detto in italiano. Che è l'appoggio delle mani. E attenzione. L'ha il salto indietro. Quindi è appoggio. Salto. Però non voglio il burpees completo. Cioè che si scende giù anche col busto e poi si risale. Voglio solo questo. E attenzione. Cammino con le mani dietro. Sali su. E qua ragazzi non posso fare un burpees e camminare indietro. Sennò sono lì. Quindi devo ritornare nella posizione di partenza. Come vado a farlo? Con un affondo della gamba destra. E torno qua. Rifacciamolo. 1, 2. Cammino con la mano sinistra. Sali e l'affondo invece sarà sinistro. Occhio a fondo. Ginocchio allineato con la caviglia. E sali. Ok? Ci siamo fino a qua. Facciamone due. Pronti? 3, 2, 1. Andiamo. 1. Torno. Su. Affondo. Giù. Cammino con la sinistra. Su. Affondo sinistra. E qua. Vedete io sono sempre al solito punto. Ragazzi siamo pronti? Io direi di sì. Io sono già bello. Che sudato marcio. Come al solito. Ma beviamo un gutin d'acqua. Un gutin d'acqua beviamolo. Gutin. Gutin lo diceva mia nonna che è veneta. Davide se bevi un gutin d'acqua. faccio. Benedetto ragazzo. Mamma mia. Vabbè lasciamo perdere. Pronti ragazzi e ragazze? Mie dolce e mie età. Mie dolce e mie età. Siamo pronti a partire? Intanto ti alzo. Anche la music plays. Tappetino. Allora come ti ho detto prima. 50 secondi primo esercizio. Poi 40. 30. 20. Pausa. Ok? Poi partiamo con il secondo esercizio che in questo caso cos'è? Jump squat. E torno indietro. Che durerà non più 40 secondi ma 50. E da lì via via. Ok? Ok? Facciamo il primo giro che poi lo capiremo meglio. Pronti ragazzi? Allora mancano 40 secondi eh? 40 secondi e si parte. Giù. Decidi te se farlo push up a ginocchia plesse o a gambe tese. L'importante è che tu tieni le spalle allineate con i talloni. Appoggio. Ginocchia allineata con i talloni. Ok? Push up torsione per 50 secondi. Are you ready for the last time? Yes! Are you ready? Dai dai. Prima si parte e prima si finisce. 10 secondi. Are you pronti? Andiamo? Preparati. Su. Io vado a gambe tese. 3, 2, 1. Vai che si va giù. Uno. Naturalmente tu fallo al tuo tempo eh. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Cerca di spingere il gomito. Andiamo. Giù. Ragazzi siamo a metà. Giù. Wow. Su. Vai. Giù. Su. Giù. Su. Su. Vai. Non è necessario che stai alla mia velocità. Se vuoi vai anche più lenta o anche più veloce eh. Giù. Giù. Stop. Ok ragazzi secondo esercizio. Pronti? Jump squat e saltelli dietro. 3, 2, 1. Andiamo vai. Questo dura 40. Andiamo. Vai. Datti anche lo slancio con le braccia. Slancio. Vai. Piccola corsetta sulle gambe eh. Voglio che me le usi. Su le gambe. Vai. Giù. Vai. Giù. Vai. Giù. Ancora. Giù. Dammi l'ultimo. Giù. stop. Ragazzi. Tappeto. V-up. 3, 2, 1. Andiamo. Vai vai che dura 30. Su. 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 vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. 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 Mi raccomando. Se non vuoi partire a gambe tese. Parti a ginocchia plesse. Su. 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 Stop. Ragazzi. Barfis. Mezzo. Camminata indietro. Un affondo. 3, 2, 1. Andiamo. Cammina a destra. Affondo destro. Vai. Cammina a sinistra. Affondo sinistro. Andiamo. Cammina a destra. Affondo destro. Dammi l'ultimo. wow. Su. Stop. Ragazzi. Primo andato. Ce lo siamo levato. Attenzione. Da adesso. Un minuto di pausa. Ragazzi. Si riparte. Mancano già 50 secondi. Vabbè. Ce lo facciamo subito. ora attenzione. 50 secondi. La partenza del tempo sarà col secondo esercizio. Ok. Quindi jump squat. V crunch. Barfis con l'affondo. E ultimo esercizio diventa quello che era il primo esercizio. I push up. Ok. Ci siamo? Ragazzi. 25 secondi. E se parte. E se parte. fammi dei bei respiri. Mantieni, mantieni il movimento. 10 secondi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Andiamo. Vai. Ancora. Vai. 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 Su. Ancora. Oh, malo. Where do you go now? Vai. Non ti risparmiare. Vai. Manca 20. Vai. Vai. Ancora. Manca 10. Andiamo. Mi stai chiedendo. Ma sei sicuro che sono 40, non 50 secondi? Sei sicuro? Stop. Vai. Ragazzi, vi. durerà. Ah no. Era 50 secondi prima. 40. Vai. Uno. Sei. Due. Tre. Vai. Quattro. Cinque. ti ricordo. Ti ricordo la fase più semplice. Su. Se proprio non ce la fai, ragazzi, gomito ginocchio, eh. Ma proprio se non ce la fai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Vai. Su. Ultimo. Su. Su. Stop. Ragazzi, mezzo burpees. Camminata indietro a fondo. 3, 2, 1. Dura 30. Vai. Andiamo. Vai. Su. Andiamo. Su. Andiamo. Su. Andiamo. Su. Andiamo. Andiamo. Come on. Come on, baby. Su. Come on, baby. Su. Andiamo. Come on, baby. Su. Andiamo. Vai. L'ultimo. Ragazzi, stop. Tappetino. 20 secondi di push-up e torsioni. 3, 2, 1. Andiamo. Vai. Solo 20 secondi. Vai. 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 Ancora. Vai. L'ultimo. Stop. Wow. Wow. Questo ci serve ora. Lasciamolo. Andiamo a bere. Ok. Andiamo a bere, ragazzi. Perché ora partiamo col terzo esercizio. V-crunch. Ok. Dai che manca sempre di meno. Ti ricordo che non ci serve stare a tempo musicale. Tu vai al tuo di tempo. Ok. Che è importante? sapere questo. Ragazzi, 20 secondi e si parte. È già passato un minuto. Se puoi credere. Basta fare due sorti di grappa. Ed è andata. Ragazzi, 12, 11, 10. Vai giù. Vai giù. Big crunch. 4, 3, 2, 1. Andiamo. 50 secondi. Vai. Su. 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 Dai ragazzi che siamo in discesa. È il terzo blocco questo. Eh. Terzo giro. Vai. 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 Ancora. Su. 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 Manca 15. Vai. Vai. Su. 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 Dammi l'ultimo. Su. Stop. Wow. Ragazzi, 40 secondi di mezzo barfi se camminate. È lunga, eh. Dopo sarà il primo esercizio. Vedete? 3, 2, 1. Andiamo. Su. Andiamo. Su. Andiamo. Su. Andiamo. Su. Andiamo. Su. Ancora. Vai. L'importante è che tu mi alterni le gambe nell'appondo. Vai. Su. Ancora. Vai. Su. Stop. Wow. Però. Ragazzi, abbiamo i push up. Are you ready? Durerà 30. Si va. Uno. Due. Tre. Se vuoi appoggi le ginocchia. Ti appoggi. Distese. Torsioni, eh. Giù. Vai che manca 10 secondi. Giù. Dai, dammi l'ultimo. Stop. Ragazzi, jump squat. Dura 20 secondi. 3, 2, 1. Ready? Vai. Ancora. Vai. Sempre dietro il sedere, eh. Dietro. Dammi l'ultimo. Stop. È andata. È andata. Wow. Cammina se hai il cuore a falla. Cammina. Fatti una bella camminata. Lo so, il tempo passa intanto. Fatti una bella camminatina. Andiamo a bere un pochino. Mi raccomando, quando abbiamo il cuore alto, respiro col naso fuori dalla bocca. Allora, piccoli torsi. Piccolini, eh. Così, stop. Oh, che bellezza. Ok. Ragazzi. 25 secondi e si riparte. Si riparte con l'ultimo esercizio che durerà 50 secondi. Mezzo burpees. Cammino dietro. Affondo. Ok. Ragazzi. 12 secondi. Siamo pronti? Sì. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Andiamo, dai. Ultimo giro. Giù. Vai. Giù. Dai ragazzi, che è l'ultimo giretto questo. Ce lo facciamo fuori come se fosse un ciupito. Vai. Su. Giù. Andiamo. Vai. Giù. Ancora. Manca 20 secondi. Vai. Dai ragazzi, che ci siamo. Giù. Vai. Giù. Stop. Wow. Ragazzi, push up. È dura, eh. 40 secondi di push up. Se sei già troppo stanco o stanco, ginocchi in appoggio. 3, 2, 1. Andiamo. 1. Vai. Stringo gli addominali. 2. 3. Mancano 25 secondi. Vai. Vai. Mancano 18 secondi. Andiamo. Vai. 10. Stop. Wow. Ragazzi, via. Wow. 30 secondi. Squat jump. 3, 2, 1. Andiamo. Vai. Dai, che ce la facciamo. Sei con me, vero? Sì o no? Pollice su. Andiamo. Dai, che sei con me. Vai. Dammi l'ultimo. Stop. Tappetino. V-crunch. Dura solo 20 secondi e abbiamo finito. 3, 2, 1. Go. Vai. Go. Vai. 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 Ancora. Vai. Vai. Dammi l'ultimo. Grandi. È andata, ragazzi. È andata, è andata. Wow. Ci alziamo in piedi. Camminiamo. Stop. Cammina nel posto dove ti sei allenato, allenato adesso. Cari miei dolci, metà. Prendi l'aria dal naso fuori dalla bocca. Muovimi le braccia. Vai. Cambio il giro perché se no mi vengono a vomitare dopo. Respira, respira, respira. dentro l'aria fuori l'aria, eh. Ok. Allora, andiamo giù di nuovo. Ci facciamo un mini circuito di addominali. Ok. 40 secondi, 20 di rest. 40 secondi, 20 di rest. 40 secondi, 20 di rest. Stop. Ok. Ci siamo? Sì. Crunch singolo normale. 4, 3, 2, andiamo, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Cerchiamo di andare tutti a ritmo della musica. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda le braccia. Spingo. 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 Ancora. 1, 2, 3, 4. Ultimi due. Stop. Prima andato. Tranquillo. Ok. Tensione. Uguale identico, ma le gambe rimangono su. 10 secondi. Sfruttiamo tutta la pausa. Pronti? 3, 2. Sulle gambe. Occhio a me. Crunch normale. 1, 2, 3, 4. Ancora. 5, 6, 7, 8. Dammena ancora. 2, 3, 2. Usiamo anche le gambe. Piccolo indietro. Vai. Ci chiudiamo. Chiuditi. Apriti. Su. 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 5, 4, 3, 2. L'ultimo. Stop. Pausa. Come state? Bene direi. Allora, usiamo la stella. Gambe distese. Braccia aperte. Gamba destra e braccio sinistro. Poi ti darò il cambio. 3, 2, 1. Andiamo, vai. 1, 2, 3. Solleva il busto e ruotalo. Vai a toccare la punta del piede. Su. 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 Ancora 3, 2. L'ultimo. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dammeni ancora 4, 4, 3, ruota bene, 2, l'ultimo. E sto. Siamo morti. Non è vero, siamo vivi. Hai visto che ragazzi l'abbiamo portato alla fine? Certo. Abbiamo faticato. Ci siamo allenati. Però io ho ancora tanta energia. Tu magari ne hai forse un pochino meno di me o magari anche più di me o uguale a me. Ma è così che deve essere l'allenamento. Deve finire il nostro allenamento che abbiamo ancora energie. Perché abbiamo la giornata da affrontare. La serata da affrontare. Insomma dipende quando fate le lezioni. Questo è un vero allenamento dove non sei stressata o stressato. Ok, rimani giù distesa. Giù distesa. Abbassa solo la musica. E qua. Qua così. Prendi il ginocchio sinistro, mano destra e scendi giù verso destra. Tienimi le spalle attaccate al pavimento. Ricordati, ogni volta che ti alleni, tu non devi finire l'allenamento che dici, oh basta, non ce la faccio più, adesso devo andare a letto a dormire perché non mi reggo in piedi. E no, lì hai un po' forse esagerato. Tu devi dire, oh ho sentito l'allenamento, però ragazzi ora devo andare a lavorare. Oppure devo andare a fare i mestieri, oppure devo andare a fare la spesa e ce la faccio. Quello è un vero allenamento. Stop. Cambio. Ginocchio destro, braccio sinistro e me lo porto giù. Prendi bene l'aria col naso. E fuori con la bocca. Rilassa gli addominali. E piano piano ritorno. Guarda, ti aiuti con la gamba, prendila su. Ok, gambe belle distese. Andiamo giù bene. Cerca di tenermi le gambe belle distese. Tienile, eh. Arriva dove riesci, mi raccomando, senza nessun problema. Fammi un bel respiro qua. E attenzione, svuotandoti, scendi un po' di più. E stop. Piegherei la gamba destra, la porti a cavallo della sinistra. Ruotami il busto e col braccio spingi il gomito. Ora io qua c'è tutto sudato, mi scivola il braccio. Cerca di tenermi la schiena dritta, spingi il centro della testa verso l'alto. Lascia. La stessa gamba va dietro. Dai una piccola tirata al quadricipite. Lascia. Cambierei la gamba. Ma attenzione, incrocio prima. Ora vi darò un po' di spalle, ma schiena bella dritta. Tanto mi sentite parlare, eh. Magari a volte non vorreste neanche sentirmi più parlare. Anche perché parlo sempre, anche durante gli allenamenti. Dovrei stare un po' più zitto, secondo voi? No, dai. Non glia faccio. Porto dietro. Ah. Ah. Ottimo allenamento oggi. Non troppo forte. Da dire, ah, ce la faccio. Ce la facciamo tranquillamente a farlo. Bello cardiovascolare. E anche di tonificazione muscolare. Abbastanza completo. E lascia attenzione. Porta la gamba sinistra avanti, la destra dietro. Ti sollevi. Io vado indietro perché ho il tappetino. Piano piano. Lascia andare le braccia. Fai cadere il busto e muovimi le braccia. Ancora quattro. Ancora tre. Due. Piano piano risalgo, srotolando la schiena. Raddrizzo le spalle. Su un bel respiro. Unisco le mie manine. Grazie, ragazzi. Grazie mille di aver fatto lezione anche con me oggi. Io, ragazzi, ho sudato come un dannato. Non so voi, aspettate lì, eh. Non so voi. Però, ragazzi, vi devo far muovere un attimino, eh. Quindi, questo qua io lo devo portare, come al solito, a lavare perché l'ho riempito del mio sudore. Del mio santo sudore. Santi tutti oggi. Non abbiamo visto tutti i santi. Ne abbiamo visti qualcuno di santi, eh. Ok? Detto questo, io ti ringrazio. Mi raccomando, qua sotto voglio il tuo commentino nella chat. Quindi, come se fosse la chat di Facebook, io ve lo dico sempre. Qua sotto possiamo commentare. Io posso rispondervi. Adriana può rispondere a Cinzia. Cinzia può rispondere a Maria. Rossella può rispondere a Roberta. Ci possiamo parlare anche qua nella chat. Ok? Ti mando un grandissimo bacio. Ti aspetto sempre all'interno dell'SJD Space in tutte le sue sale, eh. Ciao, alla prossima. Mi raccomando, sentiti sempre libera, sempre e ovunque. Mi raccomando, sentiti sempre libera, sempre e ovunque.